Direttore Barberio, siamo alla chiusura della terza edizione del 5G Italy. Qual è il suo bilancio e ci racconti anche il film che lei ha visto sia davanti alle telecamere e poi nell'organizzare questa conferenza internazionale? Tre giorni fitti, tre giorni di confronto sui temi più importanti che riguardano lo sviluppo dell'economia, della società, lo sviluppo della conoscenza non solo in relazione alle università ma al mondo produttivo e alle stesse scelte della politica. Abbiamo avuto appunto i rappresentanti di queste tre grandi macro aree, istituzioni, imprese ed università. Il CNIT ha avuto il pregio di promuovere un evento che ha fatto da grande contenitore per tre giorni in cui in un certo senso il Paese si è confrontato sul futuro. Tante le sollecitazioni che sono emerse, tanti anche i follow up che immaginiamo scatteranno nei prossimi giorni. Devo dire che mi ha molto sorpreso la grande abbondanza di testimonianze sulla stampa italiana ed anche estera che hanno seguito il confronto che abbiamo promosso. Questa attenzione indica quanto questi temi siano veramente a cuore a tutte le persone che lavorano sullo sviluppo della tecnologia, dell'innovazione e sulla crescita economica del Paese. Un applauso particolare veramente al CNIT che ha avuto la sensibilità di insistere con questa terza edizione e già si pensa alla quarta perché abbiamo tutti bisogno di confrontarci, abbiamo tutti bisogno di cercare soluzioni. Il mondo cambia molto velocemente e se non si guarda all'orizzonte è difficile che si realizzino quegli strumenti di cui abbiamo bisogno. Come si fa a stare davanti alla telecamera, contemporaneamente a gestire il dietro le quinte? Un'ottima regia e ci dica qualcosa in più. Innanzitutto qualunque cosa avvenga e qualunque cosa sembra perfetta all'esterno, dietro è un formicaio, è una specie di backstage in cui ci sono tante persone che lavorano. In genere la percezione di una persona che si mostra, dietro ci sono tante unità che si muovono ciascuna per conto proprio. Noi abbiamo avuto un gruppo operoso e generoso che ha lavorato sugli aspetti tecnici, quindi la messa in onda, la messa in streaming. E poi tutta l'organizzazione, organizzare un grande evento così comporta grande attenzione nelle relazioni con le persone. Bisogna convincere ad esporsi, convincere a venire e dire le cose giuste, non quelle che noi vogliamo, ma quelle che il confronto e il dibattito nazionale si aspettano. Tutto questo è un obiettivo che va sapientemente costruito e questo risultato è frutto per l'appunto della contribuzione di un piccolo esercito di persone che ha lavorato generosamente per diversi mesi. Ecco, questa è la prima considerazione che farei. Poi naturalmente, come dire, la cosa che mi è sembrata molto bella è che quello che per noi sembrava un disvalore, cioè una iniziativa, una manifestazione così lunga, due giorni e mezzo, così numerosa nei partecipanti, circa 80-85 speaker, un numero non precisato 20, 24, 25 panel su altre tante aree tematiche. Tutto questo ho organizzato in modo ibrido tra presenze in sala e presenze da remoto e sembrava una scommessa impossibile che invece è stata resa possibile. Devo dire che questo mix tra presenza in studio e presenza da remoto ci ha dato delle sorprese e devo dire che ci ha dato anche una spinta alla creatività perché vi posso assicurare che anche a pandemia scomparsa è probabile che continueremo a fare gli eventi in questo modo contaminato e ibrido tra presenza e collegamento da remoto. Grazie.